Cari amici di Space TV, eccoci qui ancora una volta finalmente dopo un po' di tempo con il nostro amico di Space TV, il colonnello Mario Giuliacci, al quale non possiamo non proporre delle domande interessanti dopo la particolarissima estate a cui abbiamo tutti assistito. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno a te Claudia, un caro saluto ai tuoi telespettatori di Space TV. Ecco il problema che tutti ci chiedono è cosa è successo con questa enorme siccità? Qual è oggi il problema idrico dopo questa difficilissima estate calda, secca? Com'è oggi messa l'Italia? Allora, diciamo che senz'altro è stata la più grave siccità di sempre perché è iniziata in gennaio, è finita, non è finita perché adesso ad ottobre diciamo hanno ricevuto abbastanza acqua. Le regioni tirreniche, le regioni tirreniche e le isole, ma gran parte del nord, soprattutto le regioni di nord-ovest e quelle del medio adriatico sono ancora fortemente difficili in termini di apporti idrici. Diciamo che poi ne parleremo, per fortuna forse l'autunno aiuterà a metterci una pezza, nel senso che, ribadisco, attenzione, la siccità non è finita. Quindi chi oggi magari vede piovere nella sua regione pensa sì, sta finendo la siccità, ma se gli apporti idrici sono modesti, come è avvenuto tra settembre e questo primo scorcio di ottobre, che vi sono state tante perturbazioni, e uno pensava tra tante perturbazioni riusciremo a risolvere il problema idrico su tutta l'Italia. Invece no, perché per alcune regioni è risolta, soprattutto per le regioni del nord-ovest, Piemonte, Lombardia, Liguria, ma anche Emilia e Romagna, il problema è anche, diciamo, la medio alta toscana, il problema ancora resta grave. Grazie Mario per questa prima delucidazione sul problema idrico in Italia, ti salutiamo anticipando i nostri spettatori che a breve continueremo una piccola serie dedicata a queste problematiche e sapremo di più anche sulla situazione idrica nel mondo. Per ora, grazie e alla prossima. Grazie a te e un caro saluto ai tuoi telespettatori. Grazie a te e un caro saluto.